Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale Eccoci qui di nuovo con The Walking Dead Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati Ci eravamo andati a salvare il tipo Che adesso non mi ricordo come si chiama Anzi adesso Momenti di lag Auroso Dov'è il tipo che abbiamo salvato? A parte stare ingoglionita Chissà che sta a fare con la radio Eccolo qui Glenn, vediamo cosa ci dice Glenn Se magari sa qualcosa sulla combinazione Poi lo chiediamo Intanto vediamo lì un po' al motel Ma per me è andata bene Era lo spreco di una pallota Volevo la... Cioè avevo l'accetta Scusa Vabbè intanto chiediamogli la combinazione Magari Perché dovremmo uscire Io e l'altro Ok un po' a rallentatore Sono usciti questi sottodito Ne va bene Guardate la prossima volta Ok Perfetto Quindi ci ho consigliato di romperlo Quindi di conseguenza Credo che dobbiamo andare a prendere il bastone Del babbo Presù Ah no c'abbiamo l'accetta E' vero Tu stai bene comunque Da un po' che non ci vediamo Sono andato un po' In giro T'apposto Com'è il dito? Perfect Lo so che non sono tuo padre Però Ah vedi comunque ti dà Sei andato a vedere come sta Clementine Quindi molto probabilmente Qua cosa gli farà piacere Tu brutta rincoglionia Cosa stai facendo Questa secondo me sta incazzata Scupe del secolo qui Eh vabbè dai Vabbè dai Sto registrando io Se ti serve poi qualcosa Non fare tanto la dura La tua preoccupazione Perfetto Ehm Vabbè allora aspettate Facciamo che ci andiamo a preoccupare Un Preoccupare tra virgolette Un po' di tutti Giusto per Per sapere dai Ok no Questi Non se ne fregano niente Vabbè parliamo un po' pure con lo stronzo Dai Giochicci Ah ok Neanche questi Se ne fregano molto Vabbè Allora Arrivederci Io vado a Ehm Cazzo vado Sbagliato No sbagliato Ho sbagliato Torniamo indietro Torniamo indietro Maledizione Bambina qui ci segue Scusa Clementile Ma c'è un attimo di disorientamento Come ben sai Ho problemi di orientamento Quindi Può capitare E capiterà sicuramente di nuovo Infatti non trovo il tipo Qui Perfetto Meno male che è una stanza questa Direi anche sì C'ho la scietta Quindi spacchiamo dei culi Anzi Io direi Prima di No Prima spacchiamo questo Poi accendiamo la televisione E poi andiamo Che ne dici Ok Adesso 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 Utilizziamo Telecomando Qualcosa si accenderà Dai Anche no Grande Ok Perfetto Eh Dovrebbe attirarla di tutti Magari se qualcuno urla Ah no Non gliene frega Proprio una ceppa Cambia canale Va magari Se vedono Che ne so Studio aperto Con Il classico servizio Smandrappona Che sostanzialmente L'unica cosa Che fanno Vabbè Quindi dobbiamo Spaccare il vetro Eh Non Se vado là Mi spaccano Ce l'è una pietra Aspettano No 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 Eh culo mica l'avevo visto perchè non lo riusciamo a prendere? dobbiamo aprire prima qua aia 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 facciamo poco poco basta prendi il mattone eeeh lancialo secondo me non c'ha fila, prende in testa qualcuno vai andate e divertitevi io intanto vado a prendere la chiave da quello che una volta era nostro fratello non sarà certo una cosa facile direi naturalmente non ho visto quando ho iniziato la registrazione porca troia eeeh mi spiace brothers non sarei dovuto guarda partire secondo me no al momento non credo e mi sa che dobbiamo usare l'accetta ok aia tosto il fratellino ok preso un no arca puttana ancora? e che cazzo stiamo a tagliare una quercia? aia direi di prendere la chiave se ce l'ha si io direi di andare subito perché ecco ma è lui che ha urlato e ha detto corri e si sono girati perché secondo me prima stavano tranquilli a vedere la televisione vabbè almeno fa tutto da solo non abbiamo più il lucchetto quindi direi che perfetto ok calcola che ste chiavi sono costa di gare quindi e l'ho fatto tutto per quel tipo che non so voi ma la song il team song che c'è in questa zona mi piace un po' cubo però è un po' triste diciamo ah bene l'altro non si alza orca troia ma no dai ecco aspetta ah ok serve una mano qui? ma no ma guarda quel figlio di troia è di molto aiuto ce la faremo ce la faremo no no fammi sentire che dice la signorina cazzo eh ah no a lui fan non ha vola ma come ci penso oh ah però vai vai il bastone del padre il bastone del padre il bastone del padre eh no ma che vai ma perché dobbiamo essere sempre noi pirla che rimane no 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 cazzo ho sbagliato tasto fanculo eh vabbè l'ho detto per buttarmi nell'atmosfera sto giocando con la luce spenta quindi quindi naturalmente non vedo i tasti sulla tastiera no no cazzo possiamo saltare il sudante no bene fanculo ragazzo grande oh eh no dai però tutte ste cose maledizione ok andiamo aia 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 ah devo scegliere tra la bagascia e il tipo ah cazzo merda la bagascia e la bagascia il tipo mi ha detto che sono un grande scegliamo la gnocca o scegliamo la gnocca o no ah no ok ce li hanno fatti fuori tutti e due cazzo vabbè anche no è la madonna ma vacca puttana troia si ok grazie ti ringrazio me lo mando a cagare direttamente scommetto che ce la facciamo ce la faremo ma non ti sei guadagnato la mia fiducia cioè la mia salvezza lo sai perché ti manca una cosa fondamentale e non dico cos'è certo magari il tipo forse è più sveglio comunque effettivamente la scelta non è fa cioè sostanzialmente noi scegliamo quella solo perché abbiamo la remota possibilità di trombarcela perché se no era cioè non riusciva a capire che ci andavano le pile alla radio poi l'ha messa pure storta quando ce l'aveva quindi però vabbè come dire ragazzi vai 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 cazzo cazzo magari ce la dà che ne sapete oh aspetta 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 vai vai ok queste sono scelte difficili sono scelte difficili l'amico o la gnocca l'amico o la gnocca l'amico o la gnocca poi amico dai è conoscente non è che sia poi così amico poi lei c'ha la pistola e quindi lui non c'ha niente mi spiace fratello ma la signorina c'ha due cose fondamentali una è la pistola e l'altra è un'altra cosa vai vai hai scelto posso oppela grande spara pure a lui spara pure a lui ok no mi spiace fratello mi spiace oh sappi che che mi devi qualcosa oh lascia la bambina che ti spezzo le manche ma non è che è la mamma questa non so perché ho questa idea che l'abbia inquadrata sin dall'inizio perché magari fosse la mamma no ah devo andare ok 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 no vabbè che figlio di troia oh ma serio ah cazzo eh bello il tipo lo ammazziamo subito meno male che ci ha salvato questo oh andiamo che cazzo ci vogliamo sta qua ammazza immediatamente il tipo immediatamente noi ci vediamo comunque la prossima puntata magari appena salva non so sinceramente come detto non so quando ho iniziato a registrare spero che non sia uscito troppo lungo ragazzi ehm 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 cerco di tagliare quella parte almeno se mi ricordo come detto abbiamo puntato alla gnocca invece del di quell'altro non è uno spettacolo da far vedere una bambina certo ne ha già viste di brutte però ehm dov'è il tipo il padre dell'altra baldracca datemi una pistola anzi no l'accetta ce l'abbiamo ancora sì non mi dite che ce lo siamo portati e che non possiamo affrontarlo perché io ok quando ci sarà da scegliere qualcosa no ok vabbè ragazzi dai allora ci salutiamo qui c'è il tipo ce lo siamo portati no non c'è se ce l'avevo portato in mano gli spezzavo le mani eccolo là il figlio di Troia ci andiamo a parlare adesso no cazzo maledizione ragazzi allora appena finisce di non so che chiarare coltivo non ho più palida ma io direi di no quindi secondo me la decisione è sbagliata devi fare quello che devi fare trovi no la decisione è sbagliata ok ok eh sì là c'era la tipa che ha fatto una portafine effettivamente comunque non c'è una situazione particolare abbiamo perso facendo quella scelta un tipo adesso se ne va anche questo quindi diciamo è tutto un po' tra virgolette che ti fa riflettere sono scelte che bisogna fare comunque vabbè ragazzi da lei è vacca puttana vabbè vediamo che finisciamo ok l'amico mi sta simpatico comunque l'inizio era un po' così però adesso ci ha salvato la vita da quel figlio di Troia che appena gli andremo a parlare nella prossima puntata gli pianterò una cetta in testa noi ragazzi allora ci vediamo con il prossimo video vi ringrazio sempre per aver seguito queste puntate come sempre vi ringrazio adesso perché non avrò modo di replicare a tutti quanti i commenti mi raccomando mettete un bel mi piace commentate iscrivetevi alla pagina facebook se volete condividere condividete mi raccomando come detto commentate anche se non riesco a rispondere a tutti i commenti li leggo quindi mi fa piacere vedervi diciamo partecipi ai video ditemi voi le vostre scelte che avreste scelto tra i due e vabbè noi ci vediamo come detto al prossimo video un saluto a tutti da Quel Taleale grazie a tutti